Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre, questo è Di Pre per il sociale e oggi devo dire sono qui con una persona non proprio delle migliori, anzi direi quasi disastrosa e qui con me c'è Giuseppe Simone. Giuseppe io sono qui adesso con te proprio perché voglio dire invece lanciamo un appello, giusto, perché tutte le femmine all'ascolto possono chiamarti Senta, lei ha sorelle. Io dico solo questo, intanto ti sei rivelata persona generosa, fai bene a dire subito che cos'è il basico istinto per la seduzione, fai bene a dire le cose che pensi Scusami se ti interrompo, non vorrei essere maleducato. Qui, qui devi toccare, qui devi toccare, qui c'è la sostanza per la tua bocca Ovviamente hai citato. Scusami se ti interrompo. Allora io voglio mostrare quanto sono maschio Tu hai introdotto tanti concetti in Italia, però è anche giusto, io non sono qui a dire che do Scusami se ti interrompo, io ho da cinque anni che chiedo datemi l'uccello non identificato e nessuno me lo dà Questo è Di Pre per il sociale Scusami se ti interrompo, non vorrei essere maleducato Ma Giuseppe ascoltami Guardate che mutande che c'è Chiudiamo qui questo primo nostro incontro Facciamo un appello al cameraman Te lo do io, hai capito? Te lo do io, l'involucro vaginale Hai capito? Come ti chiami? Gianfranco Te lo do io, l'involucro vaginale E io ho da cinque anni che chiedo Datemi l'uccello non identificato Sono arrabbiato, avvocato Allora Scusami se ti interrompo, Gianfranco Qui c'è la sostanza per la tua bocca Grande incontro, ha fatto molto piacere Complimenti Giuseppe Simone E Andrea Di Pre, vi saluta Un caro saluto Guardi, guardi le mutande che indossa Giuseppe Simone Per le feste di Orge, guardi Guardi, guardi, le piacciono avvocato Tocchi, tocchi, guardi, guardi